Franco Sport Discount si rinnova completamente. Il negozio di abbigliamento e articoli sportivi più famoso dell'Emilia-Romagna si prepara alla primavera-estate 2013 con una grande vendita di tutti i suoi prestigiosi articoli, con sconti reali fino al 50%. Franco Sport Discount è l'unico negozio con un così vasto assortimento di Lacoste, anche con taglie grandissime, fino alla nona, nei colori più sbariati e con tantissimi maglioni in cotone, camice, felpe. Franco Sport Discount è anche il numero uno nelle taglie forti uomo, con un assortimento e tipologie di taglie, fino alla 10XL, delle marche più prestigiose del settore taglie forti. Max Fort, Rifle, Emanuel, All Size. E da sempre Franco Sport Discount è sinonimo di abbigliamento per il mare, con i costumi Scorpion Bay, Colmar, Quicksilver, Adidas. O con le famose ciabatte brasiliane Ipanema. Franco Sport Discount si rinnova anche nel prezzo. Pensate, tre Polo K a soli 69 euro e Polo Lacoste della stagione precedente con sconti fino al 50%. Quasi tutte le calzature a metà prezzo. Come sempre, un ampio e comodo parcheggio da Franco Sport Discount, in via Ferrarese 219 a Bologna, uscita tangenziale 7 bis, prima dei vigili del fuoco. Potrete trovare sempre una grande quantità di prodotti con un vero 50% di sconto e dal 25 aprile comincia la grande vendita estiva con sconti su quasi tutto del 40% e del 50%. Franco Sport Discount, il negozio più famoso dell'Emilia-Romagna, si rinnova completamente e vi aspetta con le taglie forti e nella costa. A Bologna, in via Ferrarese 219, uscita tangenziale 7 bis, telefono 051 32 83 88. www.francosportdiscount.it Su Facebook, Franco Sport Discount.